Un caro saluto agli amici di Salerno Notizie, il consueto appuntamento per sapere che tempo farà nel fine settimana e nella prossima settimana. Nel fine settimana sarà bello e per di più con temperature gradevoli, ma la prossima settimana diciamo che l'inverno farà la sua comparsa su tutta l'Italia, quindi anche su Salerno e provincia, perché le temperature caleranno di 4-5 gradi e il freddo verrà amplificato da geli di venti in arrivo da Balcani. Le venti che saranno anche piuttosto forti tra lunedì e mercoledì. Per di più vi saranno piogge, piogge anche copiose, perché tra lunedì e mercoledì vi sarà un accumulo di circa 40 mm su tutta la provincia. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.